I don't know why he's riding so high, he ought to think right to do right by me, before he gets to saying goodbye, he ought to think right to do right by me. Ho tradotto questo libro a bracci di Jimmy Yao, è un autore illustratore taiwanese, molto molto famoso in Asia, tradotto in 13 lingue e che ha venduto più di 5 milioni di copie di libri in tutto il mondo. Il suo pubblico di riferimento è quello dei bambini, anche se in realtà mette d'accordo piccoli ma anche adulti, anche perché proprio in patria è letto soprattutto dagli adulti e il suo pubblico di riferimento è quello. Abbraccio può essere considerato come un catalogo di abbracci tra bambini e in particolare tra bambini animali, dove ogni abbraccio rappresenta qualcosa simbolicamente, soprattutto ci interroga su grandi e piccole questioni della vita quotidiana. Ed è sempre una ricerca di armonia tra due esseri viventi. Tutto il libro racconta la storia di questo leone che vediamo in copertina, è un leone dalla rossa criniera, che in quanto re della savana inizialmente accetta questo catalogo con molta diffidenza e ne è disgustato, proprio perché è molto sdolcinato. E invece, piano piano, dalla lettura del libro, qualcosa dentro di lui si smuove e soprattutto riporta alla sua mente un ricordo lontano che aveva in parte dimenticato. Da subito l'autore Gimiliao ci inchioda con una domanda estremamente importante. Caro amico, da quanto tempo non ricevi un abbraccio? La cronaca di tutti i giorni, la storia che viviamo, di dolcezza, ce ne mostrano poca. E soprattutto la crudeltà, la belluinità dell'essere umano, quella che vediamo affiorare nei più diversi quadranti del mondo, addirittura da dentro le esperienze religiose. Come si riagisce a questa forma di devastazione dell'essere umano che uccide lui e uccide quelli che gli stanno attorno? C'è una vecchia frase di Alberto Bagno che dice che bisogna cercare la verità nella dolcezza della compagnia. Querere veritatem indulcedine societatis. Perché solo aggiungendo della conoscenza, una conoscenza cercata, la conoscenza vera cercata insieme, che si può mettere un rimedio a questo stato di cose, che si può pensare che la nostra società possa, aumentando la quantità del proprio sapere, trovare delle forme di comprensione dell'altro che non siano semplicemente la sopportazione di quello che ci dà fastidio o la dissimulazione di quello che detestiamo, ma una forma davvero di cammino fatto insieme verso la dolcezza che forse si aspetta ancora e può farci ritornare, come diceva il nostro maestro pasticcere, alla dolcezza di quando eravamo bambini. No, baby, don't care. No, baby, don't care. No, baby, don't care.